vi parlerò di dante e della valle della morte di tulipani e senso della fotografia e del bello di fare regali sono roberto carlone e racconto storie con musica parole fotografie e cinema d'animazione in una maniera insolita e molto particolare trovi tutto sul canale youtube a cui ti puoi iscrivere se ti piacerà questo video autoprodotto con amore poche volte presento le mie foto ma in alcuni casi lo faccio quattro per l'esattezza dopo averle stampate e alcune volte anche qui sul canale e sempre mi spiegano qualcosa mi aprono sensi mi svelano un perché o una nuova strada e partiamo dall'ultima eccola fotografie da appartamento 13 giovedì 7 giugno verrà battuta all'asta per paideia in collaborazione con christis un'iniziativa che vedrà la vendita all'incanto presso la prestigiosa casa d'aste di opere donate da 27 importanti artisti musicisti attori registi e sintitolare sintitolerà scusate artisti si nasce e io modestamente lo nacqui ognuno di noi ha realizzato e donato un'opera sul tema dell'amore il ricavato andrà totalmente alla fondazione paideia è una fondazione che opera per offrire un aiuto concreto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie favorendo lo sviluppo di progetti e iniziative per contribuire a una società più inclusiva e responsabile elisabetta oro pallo mi ha contattato per donare un'opera che fosse al di fuori della normalità di artista per la quale sono maggiormente conosciuto mi spiego tutti noi abbiamo un ambito artistico parallelo o comunque non solito un hobby sostanzialmente che sempre è un altro modo di esprimere il nostro essere artisti io normalmente suono e mi esibisco con la banda osiris e parallelamente mi diverto diciamo così con la fotografia e ha coinvolto anche altri artisti chiedendo qualcosa di artistico ma di altro rispetto a quello per cui sono conosciuti principalmente cantanti che dipingono attori che fotografano giornalisti che illustrano e ci sono andy dei blu vertigo biagio antonacci aldo baglio di aldo giovanni e giacomo marcello cesena martina colombari paolo conte matteo kurti giuseppe di piazza tea falco giorgio faletti marisa laurito nicolai linin linus daniele lutazzi carlo massarini davide mengacci francesco paolo antoni pao dei negrita virginia raffaele claudio santa maria carla signoris francesco tricarico carlo verdone dario vergassola fabio volo orgoglioso e indegno a confronto con tanti artisti molto conosciuti ma contento di dare una mano con una mia opera unica insomma una è a casa mia quindi una di due ma sempre unica lasci in descrizione tutti i riferimenti per partecipare fare una proposta di offerta visionare con calma tutte le opere qui la mia l'opera proviene da fotografie da appartamento una sinfonia in live streaming nata durante il primo periodo della quarantena tutto è iniziato in maniera semplice una foto al giorno nel periodo della quarantena e senza mai allontanarmi da casa come tutti giorno dopo giorno ho capito che dovevo dare un senso a quello stop imposto ribaltare una situazione che mi obbligava all'inattività per farla diventare il soggetto del mio riscatto poche stanze tanti giorni l'unica soluzione era nobilitare ed espandere entrambi ho così iniziato a cercare attraverso le fotografie l'anima delle stanze e degli oggetti il loro lato insolito e nascosto e la casa si è svelata in una luce nuova si è caricata di sentimenti ed emozioni è diventato così un tempo superiore più intenso e con le foto ho voluto preservare quegli istanti alla fine di quella strana segregazione mi sono trovato con un amore di fotografie e tantissime idee l'uso di zoom mi ha suggerito un uso innovativo e creativo di una semplice piattaforma di videoconferenze ed ho cominciato a sperimentare attraverso la condivisione dello schermo e l'uso di due telecamere un microfono è una tastiera ho pensato ad un evento online rigorosamente in diretta ed esclusivo per massimo 20 persone un modo per condividere in intimità la preziosità di una scoperta e di un viaggio nell'immobilità di un appartamento è nata così una nuova forma d'arte multimediale innovativa diversa unica una creazione esclusiva a partire da un mezzo recente di cui non conoscevamo l'uso e senza perdere la freschezza della contemporaneità dell'evento tra creatore e fruitori una diretta a tutti gli effetti per battere l'oscurità e materializzare sogni e visioni e 45 anni nel mondo dello spettacolo mi sono venuti incontro aiutandomi a chiudere un cerchio e a spingermi oltre sia nella forma che nel narrare una scoperta le prime quattro dirette mi hanno spinto a continuare su questo progetto è grazie alle persone che hanno partecipato e mi hanno incitato ad insistere e la loro attenzione ha ripagato la mia cura ho presentato 20 repliche una sinfonia in live streaming come dicevo sulla piattaforma zoom sempre e rigorosamente in diretta l'esecuzione era limitata a 20 persone per evento ipnotica delicata e innovativa e sono state dirette molto emozionanti che hanno unito in contemporaneità la contemporaneità essenziale del teatro persone da stati continenti diversi e lontani città isole il meccanismo era semplicissimo il pubblico si iscriveva pagava un biglietto ed insieme assistevano allo spettacolo nativo per il web cioè che non era né una riproposizione di uno spettacolo teatrale preesistente o pre filmata né un rifacimento o un limitato freddo vuoto qualcosa poi insieme si partecipava ai saluti e ad uno scambio in alcuni casi molto intenso e sincero che a volte si è protatto anche per un'ora e presentavo le mie storie suonando e commentandole e succedeva un poco così devi prendere una follia un'allucinazione un'intuizione e portarla fino in fondo anche fidarti e lasciare che sia lei a guidarti una passione il tuo lavoro la cosa più importante è partire precipitare in un mondo nuovo provi una scossa senti che friggi per un'idea passi dal bagno e vedi un'angolazione nuova di cui non ti sei mai reso conto una sorpresa è lì che intuisci una foto corri a prendere la macchina fotografica inquadri è proprio come l'avevi pensata allora scatti un colpo e via a prendere la macchina fotografica inquadri è proprio come l'avevi pensata allora scatti un colpo e via la volta precedente che ho presentato una foto invece è stata al caterraduno sapete la trasmissione radiofonica di rai radio 2 condotta da massimo cirri e sarah zambotti la banda osiris collabora dalla sua nascita la sigla è la nostra alla fine di ogni ciclo appena prima dell'estate con un'intuizione geniale si inventarono il caterraduno appunto tutti gli ascoltatori i conduttori la redazione della trasmissione si incontravano per una settimana in una città e per condividere le ultime puntate della trasmissione dal vivo ogni anno il sabato pomeriggio c'era un'asta benefica per libera di donciotti venivano battuti oggetti importanti oppure anche simbolici un anno fu la valigetta che incastrò mario chiesa un altro pezzo del muro di berlino oppure la campanella utilizzata dalla presidente boldrini successe che dopo un viaggio in america stampai la mia prima foto con tutti i crismi una foto vera e ne parlai alla redazione della trasmissione e mi convinsero o meglio quasi mi obbligarono a donarla per l'asta e tra poco capirete perché la foto era un paesaggio da dante speak della deep valley la valle della morte una panoramica del bacino meridionale mi dicono il fornace creek e la catena del funeral mountains da lì nelle giornate particolarmente e terze si possono vedere contemporaneamente il punto più alto e il più basso degli stati uniti mount whitney di 4418 metri e bad water meno 86 metri eccola vedete il cartello esplicativo me lo trovai di fronte e pensai alla trasmissione insomma vi dico una vergogna salire sul palco come fotografo e non come musicista o come attore ero senza sicurezze e mille dubbi avevo come confronto stefano bollani che donava una chiavetta contenente l'opera omnia di tutti i suoi dischi e insomma la foto raggiunse una cifra da capogiro per me perlomeno continui rilanci a suon di 50 euro non ci potevo credere la mia prima foto stampata e pubblica battuta a 900 euro molto di più della chiavetta di bollani e di capì una cosa la fotografia è utile serve a qualcosa solo così ha un senso non è un'idea un gioco di esposizione di diaframmi di carte baritate o lucide di obiettivi di vanità egocentrismi oppure di tecnicismi di mi piace oppure di paura e insicurezze di non essere all'altezza la fotografia è utile serve a qualcuno tutto qua bene vi ricordo l'asta benefica per paideia il 7 giugno e per sostenere l'indipendenza del mio canale tre sono le cose che potete fare mettere un mi piace e non rimandare al canale iscriversi e il numero ampliare la newsletter ricevere su computer e cellulare e poi poi se proprio volete potete sostenere anche economicamente in maniera concreta tutte le piccole grandi spese per migliorare i video andando su tpi tip con tre e su bit.ly sostieni roberto e lì c'è spiegato tutto un giorno vi faccio un video a parte così vi spiego vi do un bacio e appuntamento alla prossima grazie per essere stati qui grazie grazie davvero ciao